In questi giorni sembra tutto scuro per il mondo dei super bonus. Non si fa altro che citare i nomi delle banche che non accettano più i crediti fiscali di clienti finali e imprese, oppure parlare del portale di poste ormai offline. Ma concorderai con me che urlare alla catastrofe o piangersi addosso non aiuterà nessuno. Per questo abbiamo deciso di continuare nella nostra missione di cercare e suggerire soluzioni. Come? Beh, siamo partiti dall'analisi dello scenario post-apocalittico del dopo sostegno inter, valutando effetti e possibili soluzioni. E poi, anziché ripetere la filastroca delle banche che non accettano più i crediti, ho dedicato alcune ore a vedere i portali delle 12 principali banche italiane. Ho spugnato i loro siti e fogli informativi e così è nato questo video, nel quale scoprirai quali banche ancora accettano i crediti fiscali e a che condizioni. Vuoi vedere se c'è anche la tua? Allora segui questo video sin in fondo, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, metti un bel like e partiamo! Ciao, sono l'ingegnere Marcello Contu e questo sarà un video positivo fra tanti che urlano alla catastrofe. Come puoi immaginare, non sono capace di fare video di speranza alla buona tipo l'andrà tutto bene di un paio d'anni fa, però sono bravino nell'analizzare fatti e numeri e proprio studiando fatti i numeri ho visto che una speranza per i super bonus ancora esiste, concreta, nonostante tanti ostacoli. Non possiamo dire che la pubblicazione del decreto legge Sostegni Ter ci ha lasciato indifferenti. Quando vedi che il mondo della cessione del credito come l'avevamo conosciuto in quest'anno e mezzo viene praticamente spazzato via, non puoi prenderla alla leggera. Se non sai a cosa mi riferisco, sappi che il nuovo decreto Sostegni Ter ha eliminato la possibilità di cedere più volte i crediti fiscali. Ormai i tuoi fornitori, dopo lo sconto in fattura, potranno cedere i crediti solo una volta. Detto questo, non possiamo permetterci di perdere la testa né di spaventarci. Quindi ci siamo buttati a capofitto, dedicando giorni intensi a studiare le nuove regole, valutare le conseguenze e immaginare le possibili soluzioni. Sono arrivato ad alcune conclusioni. La prima è che certamente il mondo del super bonus non si fermerà del tutto, ma rallenterà pesantemente. Tanti operatori si spaventeranno perché sentiranno di non avere abbastanza soldi in cassa per lavorare con una sola cessione e probabilmente decideranno di uscire dal mercato. Altri, magari un po' più strutturati, accuseranno il colpo ma ne reggeranno gli effetti e proseguiranno nel loro operare, ottenendo un chiaro vantaggio competitivo. E sì, succede così quando diminuisce la concorrenza. Sono gli operatori rimasti a dividersi l'intero mercato. Ma la domanda resta centrale. Cosa ce ne facciamo di questi crediti? fiscali? Certamente posso dirti cosa non possiamo più farcene. Le imprese non possono più cederli ai loro fornitori né a gruppi di investitori perché questi soggetti, a loro volta, avrebbero dovuto cederli ad esempio alle banche e questo non è più possibile. Con anche le poste fuori gioco, l'unica soluzione sono ormai le banche, e non tutte. Come ti accennavo in premessa, ho dedicato la mia giornata di ieri, domenica, a visitare i siti di 12 tra le principali banche italiane per patrimonio amministrato e a spulciare i loro fogli informativi. E oggi, alla fine di questo lavoro di ricerca, sono felice di metterti a disposizione una breve sintesi di quali banche ancora accettano i crediti fiscali, da chi quindi se dai privati, imprese o da entrambi, e a quali condizioni. Ma vediamo le proposte delle banche partendo dai colossi, quindi Intesa San Paolo e Unicredit. Intesa San Paolo è il gruppo leader del mondo bancario italiano, amministra un patrimonio da circa 30 miliardi di euro e in Italia è il primato sia per numero di sportelli che per quota di mercato. Per le operazioni di cessione del credito si appoggia alla piattaforma Deloitte, accetta i crediti sia dai privati, rimunerandoli a 102 ogni 110 euro ceduti, ma anche dalle imprese, questa volta pagandoli 100 su 110. Al secondo posto troviamo Unicredit, banca milanese che amministra un patrimonio da circa 19 miliardi di euro e ha 26 milioni di utenti in più di 40 paesi. Si appoggia alla piattaforma di Pricewater Scoopers, per gli amici PwC, e l'offerta è identica a quella di Intesa, 102 su 110 per i privati, 100 su 110 per le imprese. Per Banca Fineco, una delle banche in maggiore ascesa negli ultimi anni, leader per il trading e 7,3 miliardi di euro amministrati, non ho trovato offerte per le imprese. Accetta però i crediti dai privati e li paga 104 euro ogni 110 ceduti. Sottolino che fino all'anno scorso, benché il recupero dei crediti fosse in 5 anni e non in 4 come ora, Fineco pagava i crediti 105 su 110, quindi le tiriamo le orecchie per l'azione di speculazione. Per Banca Mediolanum ho trovato indicazioni solo sull'accettazione dei crediti dai privati, che paga 102 euro ogni 110 ceduti, quindi o non li accetta dalle imprese o le informazioni erano ben nascoste e non le ho trovate. Anche Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica d'Italia perché è nata alla fine del 1400, accetta i crediti fiscali e li liquida a 102 euro su 110 ai privati e a 101 su 110 alle imprese. Abbiamo poi Credem, Credito Emiliano S.P.A., che accetta i crediti sia dai privati che dalle aziende e li liquida alle condizioni già viste per intesa e unicredit, quindi a 102 su 110 per i privati e 100 su 110 per professionisti e imprese. Veniamo ora alla BIPER, quindi Banca Popolare dell'Emilia Romagna, del cui gruppo fa parte anche la Sarda, Banco di Sardegna. Anche lei si appoggia alla piattaforma di PwC e ho trovato notizia solo sull'accettazione dei crediti dai privati, che liquida a 100 euro ogni 110 ceduti. Se sei chi accetta le cessioni anche dalle imprese, mi raccomando, fammelo sapere. Andando a chiudere questa carrellata ho scoperto che Banca Sella accetta i crediti da privati e aziende, liquidandoli a 102 su 110 per i primi e a 100 su 110 per le aziende. Condizioni un po' migliori per il gruppo Banca Carigia, che accetta e liquida i crediti a 102,5 su 110 ai privati e a 101 su 110 alle aziende. Ultima, come ordine e come condizioni offerte, abbiamo Credito Agricol, che liquida i crediti a 100 su 110 sia per i privati che per le aziende. A questo punto ho bisogno del tuo aiuto per completare il mio lavoro di ricerca. Per le banche che non ho citato, magari non ho trovato sui loro siti informazioni sull'accettare o meno i crediti fiscali, o semplicemente non mi sono venuto in mente. Quindi, se tu hai notizia di altre banche che accettano i crediti fiscali e vuoi darmi una mano a informare meglio chi ci segue, ti chiedo la cortesia di scrivermi in un commento il nome della banca che, se sicuro, accetti i crediti, se li accetta dai privati, dalle imprese o da tutte e due e a quali condizioni, un po' come ho fatto io in questo video. Detto questo, credo che per oggi sia proprio tutto. Se ti è piaciuto questo video metti like, scrivimi cosa ne pensi in un commento e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato quando pubblica un nuovo video e seguimi anche su pagina e gruppo Facebook Ingegnere Marcello Conto. Se vuoi scoprire come accedere e sfruttare al massimo il superbonus 110%, guarda il webinar che ho preparato per te, trovi tutti i link in descrizione. Un caro abbraccio e a presto!